Sputa e Rospo TV Abbiamo intervistato degli operatori del mercato di piazza Bartolomeo Perestrello per sentire quando ci sarà il nuovo mercato e abbiamo sentito le loro segnalazioni anche di alcuni abitanti le vicino. Poi abbiamo fatto visita alla nuova biblioteca Goffredo Mameli al Pigneto e abbiamo intervistato la presidente Ottavia Murro e alcuni utenti ragazzi all'interno della biblioteca. Poi abbiamo anche chiesto altri pareri al mercato del Pigneto e poi naturalmente non poteva mancare il nostro critico d'arte Mattia Cirelli che ci parla del nuovo governo. E dal web ascoltiamo una canzone, una nuova canzone. Buon appetito all'Italia che va cantata da Ottavio Buonomo che risiede a Napoli. C'era una volta cosa vi va a venire in mente? Il nostro passato, i nostri nonni, la nostra storia? Senza passato non possiamo realizzare un futuro. Con questo è tutto, Rosamaria Bassi vi invita a guardare la nuova puntata. Aspettiamo le vostre email a sputeros.tv-libero.it, inviateci i vostri video e fateci le vostre segnalazioni da tutti i quartieri.